Maurizio Forte, direttore centrale settori export dell'agenzia ICE. Non credo che ci sia molto da pensare della sostenibilità, la sostenibilità è un obbligo, è un obbligo per le imprese, è un obbligo per la politica, è un obbligo per le agenzie che come noi si occupano di promozione internazionale, è un obbligo di tutte le generazioni per preservare l'ambiente e assicurare un futuro migliore ai nostri giovani. Sono temi molto complicati e più se ne parla e meglio è, quindi ringraziamo moltissimo gli organizzatori di FIGITAL Sustainable Expo perché è un'ottima occasione per confrontarci fra istituzioni con operatori esteri, l'agenzia ne ha invitati quasi 20 da 11 paesi, sono esperti della materia, rappresentanti di associazioni, professori universitari. La sostenibilità è anche un costo per le imprese, le nostre piccole e medie imprese faticano molto ovviamente a sostenere questi costi e quindi è importante che un'agenzia come la nostra sia a fianco delle imprese per assicurare eventi promozionali, formazione e opportunità per essere sempre più attivi in questo settore.